Siamo in compagnia di Giacomo Galazzo, Assessore alla Cultura del Comune di Pavia, per presentare la cerimonia di premiazione della sesta edizione del Premio Internazionale di Architettura Sacra organizzato dalla Fondazione Frate Sole di Pavia. Siamo molto felici il 4 di ottobre di dedicare una giornata al Premio Internazionale di Architettura Sacra che anche quest'anno Fondazione Frate Sole porta avanti e credo sia un bellissimo modo di portare avanti l'opera di padre Costantino e noi siamo felici di ospitare un momento importante di questa manifestazione perché proprio qui al Broletto dalle 12 inauguriamo una mostra di tutti i progetti che hanno partecipato a questo concorso. Poi ci sposteremo al Borromeo dove alle 15 ci saranno le premiazioni e poi avremo una conversazione pavese sempre al Borromeo nel tardo pomeriggio con il vincitore di questa sesta edizione, l'architetto Raffaele Moneo e io penso che sia questa un'occasione importante per incontrare a Pavia un protagonista dell'arte contemporanea che discuterà con la direttrice dei musei civici, la dottoressa Zatti e credo che per noi sarà una grande occasione di confronto e arricchimento. Spesso diciamo che Pavia è città del sapere e quindi assolutamente sono importanti e opportuni questi incontri con persone che possono darci un contributo di pensiero e di ragionamento sull'arte contemporanea e credo che il nostro ospite ci darà questa opportunità quindi l'invito è a partecipare a questa occasione di incontro al Collegio Borromeo e quindi l'appuntamento per il 4 di ottobre. Siamo in compagnia dell'architetto Luigi Leoni presidente della Fondazione Frate Sole che organizza come ogni 4 anni il Premio Internazionale di Architettura Sacra e presentiamo la sesta edizione del premio. Questo premio è stato voluto da padre Costantino Ruggeri che negli anni 90 ha istituito la Fondazione Frate Sole per continuare quella che è stata la sua attività nel campo dell'arte e dell'architettura sacra ecco ha voluto lasciare questo segno che noi abbiamo raccolto come eredità e che continuiamo sempre a svolgere questo evento della premiazione appunto ogni 4 anni ecco quest'anno ha ricevuto il premio un grande architetto di fama internazionale lo spagnolo Rafael Moneo per la chiesa di Jesu a San Sebastian ecco è una chiesa significativa che soprattutto per il suo afflato poetico e per come si inserisce in modo veramente degno nell'ambito del quartiere e come sa dialogare ecco con tutto lo spazio circostante aperto anche un po' a tutte le azioni sociali che si svolgono ecco intorno noi siamo felici veramente di proseguire in quest'azione che padre Costantino aveva tanto caldeggiato lui che era stato il cantore della bellezza il cantore dell'architettura sacra ecco col desiderio proprio di lasciare dei segni che potessero essere anche di testimonianza ecco per il mondo di un cammino di una ricerca che noi continuiamo ecco a svolgere